Questo trofeo, che si chiama appunto Primo Trofeo Matti di Basket, è stato organizzato dall'Associazione Verga Basket di Palermo in collaborazione con l'ADS Basket di Salemi e lo dice la stessa parola, solo i matti possono continuare a fare basket in questa regione, perché purtroppo manca di tutto, dalle infrastrutture, alla volontà veramente politica di portare avanti, però noi essendo matti cerchiamo di realizzare il più possibile e di portare avanti questo sport che secondo noi è bellissimo. È stato organizzato in tre giornate, è iniziato il 19 e si termina oggi, il 21 settembre. Il 19 abbiamo avuto squadre, abbiamo voluto iniziare con i bambini degli 8, 9 e 10 anni nel mini basket, il 20 abbiamo avuto l'Under 17 e il 21 oggi, 20 e 21 poi si è svolto il trofeo rivolto alla squadra di Serie B di Eccellenza e B regionale. Abbiamo avuto due squadre di Catania, una squadra di Partiniche e una squadra di Palermo. Oggi giocheremo appunto per il terzo e il quarto posto e per la finale prima e secondo posto. Oggi giocheremo appunto per il terzo e per la finale. Ha vinto il Catania per 64 a 59. Quarta classificata per la finale. Quarta classificata per la finale. Quarta classificata per la finale. Per il terzo e per la finale. Per il terzo e per la finale. Per il terzo e per la finale. Sono molto contento che ci sia stata proprio questa scredita attestazione. Perché in fondo nella nostra società i valori dello sport sono fra i modi che sono rimasti chiari. voi per essere bravi sportivi e per vincere dovete prepararvi seriamente, dovete avere dinamismo, buona volontà, regole chiare e soprattutto saprete che chi è migliore vincerà. Io spero che questi valori possano passare appunto alla società siciliana, direttamente quella italiana. e speriamo veramente che a Salemi il nostro sforzo, che è iniziato da poco, possa portare appunto ai valori dello sport anche nella società, in tutti i suoi settori. grazie per essere qua e bravi. Non le vedi! La più matta di basket di Salemi. Va bene? Si può dare la prima massificata? Maimbo Catalaniano! Una targa al riforme all'assessore allo sport. è una maniera pi--"Mainte di basketball. E prima che ho Bello, matta di basket sali!